Parrucchieri per signora ce ne sono parecchi, ma di Alberto Olmedo ce n'è uno solo. È un parrucchiere che non si limita a utilizzare forbici e pettini, ma anche spade, artigli di metallo come quelli di Wolverine e fuoco. Secondo la sua spiegazione è perché le semplici forbici non darebbero alla piega il taglio verticale che lui cerca e che solo questo curioso metodo riuscirebbe a dare. Olmedo ha scoperto che nel passato i parrucchieri non usavano solo le forbici e ha voluto recuperare, dice, una tecnica antica. Per ora intanto gli affari vanno bene e non sembra ci siano stati feriti.